ma di quando la vedo da vivo intanto ho avviato la trasmissione appena compare le do l'ok ok perfetto, è in diretta ok a dopo a dopo salto eccoci qua buon pomeriggio a tutti sono Giorgio Gentile e benvenuti a questo nuovo nonché forse ultimo incontro di Keep in Touch prima della fine di questo lockdown speriamo che la prossima volta potremo parlare di chirurgia conservativa del testicolo di persona senza usare questi mezzi informatici che sono belli ma manca diciamo il contatto umano io ho un tempo di latenza diciamo tra la diretta alla mia registrazione di circa 40 secondi quindi non penso che potremo fare le domande proprio in diretta farò la relazione e poi magari ci concediamo un po' di tempo alla fine per rispondere alle domande eventuali che mi vorrete fare sulla relazione eventuali approfondimenti sui temi che andremo a trattare io spero di fare una relazione una relazione interessante per tutti è suddivisa in tre fasi la prima un'introduzione sulla chirurgia conservativa del testicolo quello che dice la letteratura una seconda fase che illustra un po' la produzione scientifica che abbiamo avuto nella SIA MERS che è la diciamo la macro la sezione della SIA da qui in cui lavoro io e poi un'ultima fase che parlerà di prospettive future di ricerca ovviamente in questo campo che vorrei proporre a tutta la SIA e a tutti voi se siete interessati quindi direi che ci siamo e do il via alla nostra sigla Grazie a tutti. 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 Quando parliamo di chirurgia conservative del testicolo, sempre si parla di chirurgia di piccole masse testicolari e quindi il collegamento diretto al tumore del testicolo. L'incidenza del tumore del testicolo negli ultimi anni sta aumentando progressivamente, anche perché probabilmente aumenta la diagnosi. Comunque si calcola che nel 2025 supereremo le 2500 diagnosi annuali in Italia di neoplasia testicolare. Diciamo nel 2019 è stato confermato il dato che si attendeva, ovvero le oltre 2200 diagnosi e attualmente in Italia ci sono oltre 55.000 persone che sono sopravvissute, convivono con la diagnosi di neoplasia testicolare. Convivono ovviamente dopo l'intervento, convivono solo con la diagnosi. È una neoplasia che colpisce prevalentemente i giovani, infatti è la neoplasia, a parte il melanoma, più presente nella popolazione under 50, con un picco che va dai 20 ai 40 anni. Ha una sopravvivenza elevata, superiore al 90%, anche perché le neoplasie testicolari sono responsive, molto ben responsive alle terapie adiuvanti e quindi questo garantisce un'ottima sopravvivenza a lungo termine. Diciamo che quando si parla di neoplasia testicolare però si parla di un panorama, un ventaglio grandissimo di possibilità. Ci sono diversi tumori testicolari di diverse varianti istologiche che hanno un comportamento biologico molto molto differente, che vanno dall'estremamente aggressivo al completamente benigno. Diciamo che da un punto di vista di classificazione possiamo distinguere i tumori testicolari germinali e quelli non germinali. Tra i germinali ovviamente i più frequenti e frequenti in assoluto come tumori testicolari sono i seminomi. I seminomi sono tra tutti i tumori germinali quelli che hanno una prognosi migliore. Infatti i seminomi di stadio 1, che quindi hanno solo un'invasione locale del testicolo e non danno l'infangivazione, hanno delle dimensioni ridotte, sicuramente non invadono il funicolo, noi possiamo trattarli con l'orchiettomia e poi seguire una sorveglianza attiva, quindi non necessitano di terapia di uvanti. Mentre per le forme non seminomatose abbiamo generalmente un comportamento molto più aggressivo, necessitano sempre di una terapia di uvanti e quindi portano necessariamente all'infertilità del paziente che viene sottoposto. Per quanto riguarda invece i tumori non germinali, che sono diciamo dal 10 al 5%, anche qui abbiamo una grande variabilità, perché abbiamo i tumori delle cellule del Sertori, dell'Eidig, che hanno un atteggiamento tutto sommato benigno. Quelli dell'Eidig, meno del 10% dei casi possono essere malini, ma man mano che si va avanti con la ricerca di questi tumori, si vede che sempre meno si dimostrano aggressivi. E poi invece per esempio c'è il gonadoblastoma, che è particolarmente aggressivo, e i linfomi che invece hanno un comportamento del tutto differente e sono frequenti nella terza età. Ma diciamo al di là del tipo di cellularità, l'urologo classicamente è portato a pensare che la massa testicolare debba sempre essere trattata con un'orchiettomia radicale, perché fino a prova contraria massa testicolare significa tumore, significa cancro, e quindi va estirpato. Diciamo, confortati da questo atteggiamento che sicuramente è oncologicamente radicale, noi spesso non pensiamo quelle che possono essere le conseguenze dell'orchiettomia. E in effetti questa cosa è anche poco studiata, perché non ci sono degli studi conclusivi che ci dicano quali sono gli effetti a lungo termine di un'orchiettomia radicale. Nei seminomi di stadio 1, che quindi non sono quei tipi di tumori sottoposti a terapia adiuvante, si è visto però che degli effetti collaterali effettivamente possono esserci. E in particolare quello che sembra ormai da tanto tempo chiaro è che l'orchiettomia radicale può portare ad una deplezione androgenica, che spesso non porta ad un ipogonadismo clinico, ma porta a delle manifestazioni di bassi livelli di testosterone nel lungo termine, quindi un late onset subclinical ipogonadismo. Quindi diciamo le manifestazioni di questo ipogonadismo subclinico che a distanza di anni dall'orchiettomia radicale vengono a interessare il paziente. Vediamo che i livelli di testosterone non raggiungono mai le soglie dell'ipogonadismo, non vanno mai al di sotto dei 3 nanogrammi su millilitro, o almeno molto spesso non ci vanno, ma sicuramente nonostante queste non siano delle soglie che possono indicare un trattamento sostitutivo con testosterone, possono portare invece a una sintomatologia. Quindi possono portare in primis alla disfunzione rettile, ma poi anche a manifestazioni sistemiche, come per esempio il calo della libido o in generale una minimastenia e un calo del senso di benessere. Quindi una manifestazione clinica che precede o comunque c'è comunque nonostante un'assenza di una diagnosi laboratoristica di ipogonadismo, che però è frequente riscontrare in questi pazienti dopo i 40 anni. Per quanto riguarda invece il discorso della fertilità non ci sono dei dati conclusivi, non tanto perché non ci sia una correlazione statisticamente significativa, o almeno questo non lo sappiamo, ma perché non è stata studiata. Solo si è visto, si è studiato in questi pazienti la fertilità a distanza di anni, se visto che rispetto al braccio di controllo dei biorchidi non c'è una differenza sostanziale. Però i parametri seminali non sono stati studiati nello specifico e potrebbero esserci delle alterazioni. Quello che invece sicuramente, e sarà capitato un po' a tutti nella pratica clinica di vedere, è l'insoddisfazione del paziente dopo l'orchiettomia radicale, sia per una dispercezione del suo corpo in quanto viene rimosso il testicolo, ma anche a volte nell'accettazione della protesi testicolare, che personalmente più di una volta mi è capitato di dover rimuovere in alcuni pazienti. Questo articolo dice che c'è un grado variabile di soddisfazione che raggiunge anche il 30%, e che non è un dato trascurabile secondo me. Di fronte a questo che cosa notiamo? Notiamo che se noi facessimo orchiettomie a tutti i pazienti che hanno una massa testicolare anche di piccola dimensione, come dimostra questo studio che ha analizzato retrospettivamente 2800 procedure di orchiettomia radicale, un terzo delle orchiettomie risulta non necessaria, perché un terzo delle masse risultano essere benigne. E questo è un dato molto importante, perché ci deve far pensare molto spesso al rischio di overtreatment che espone il paziente l'orchiettomia radicale, se non siamo sicuri che quello sia un cancro maligno. E quindi, di fronte a, come spesso succede quando si conosce sempre un po' di più della biologia e del comportamento del tumore, al lato di altre chirurgie organ sparing in urologia, come la nephron sparing, la terapia focale della prostata, ha preso via via spazio anche la testi sparing surgery, ovvero l'enucleazione della massa testicolare con la preservazione del testicolo. Quali sono le caratteristiche necessarie per candidare un paziente alla testi sparing surgery? Innanzitutto dobbiamo avere a che fare con una piccola massa testicolare. Non è stato stabilito un cut-off ufficiale per la diagnosi di small testicular mass, però la letteratura varia dai 2,5 ai 2 cm massimi di diametro. Comunque il volume deve essere inferiore al 30% del tumore del testicolo. La posizione della massa è molto importante perché non deve dare segni di invasione, in particolare alla rete testis, e i marker sono negativi. È fondamentale, qualora ci si approcciasse a questo tipo di chirurgia di preservazione del testicolo, fare sempre un esame estemporaneo intraoperatorio che semplicemente ci dia l'indicazione se la massa che abbiamo escisso sia benigna o maligna. Non importa l'istologia, quello ce lo dirà l'esame istologico definitivo, però è fondamentale che ci dica se è benigna o maligna, perché noi solo così possiamo confermare l'indicazione è un approccio conservativo. C'è capitato pochi mesi fa, poco prima dell'inizio di questa epidemia, questa pandemia di coronavirus, di dover operare un paziente molto giovane, non arrivava a 20 anni, che era stato sottoposto a testis per insergeri in un altro centro, quindi enucleazione della massa, ma senza frozen section examination. E il risultato poi dell'esame istologico definitivo un seminoma. E quindi abbiamo dovuto fargli, a distanza di un mese dal precedente intervento, un'orchiectomia radicale. Il paziente non era contento, ovviamente. Diciamo che in particolare nelle nuove linee guida aggiornate si è posto finalmente una particolare attenzione alla testis per insergeri, in cui si è detto che ovviamente va proposta nel paziente monorchide, sempre associata a esame istologico estemporaneo intraoperatorio, ma che soprattutto nei casi delle piccole masse testicolari di comportamento incerto con marker negativi, può essere proposta come trattamento di elezione. In particolare, c'è una forte raccomandazione del fatto di proporre una testis per insergeri ai pazienti con un tumore che fino a prova contraria va considerato benigno. Quindi piccola massa testicolare, non superiore al 30%, non invadente da rete testis, marker tumorali negativi. Ok? E questa è la prima volta quest'anno che viene data questa raccomandazione. Forse anche grazie alla conoscenza su questo argomento, grazie alle pubblicazioni che vanno via via, diciamo, acquisiscono importanza in letteratura. Quindi diciamo che da un punto di vista di linea guida, la testis per insergeri può essere indicata sia nel tumore maligno, quindi in caso di tumori bilaterali o tumore maligno in monorchide, se il paziente ha un desiderio di paternità, in particolare nel caso di seminomi, questo è un approccio che può essere sicuramente adottato. Quindi nel caso, come dicevamo, nel paziente con tumore metacrono, che quindi ha subito l'orchiectomia da un lato e dall'altro, oppure nel paziente che ha il tumore bilaterale dove generalmente viene fatta l'orchiectomia del tumore del testicolo ospitante, il tumore ai dimensioni più grandi e chirurgia conservativa del testicolo che ospita la lesione più piccola. In particolare, questo è uno studio molto interessante di tantissimi anni fa, infatti era del 2001, in cui lo studi group del tumore testicolare tedesco trattò questi pazienti con una radioterapia bassa dose, quindi 16-20 gray, quando la dose standard sarebbe di 30, con una sopravvivenza libera della malattia paragonabile a quella dell'orchiectomia radicale, è anche la preservazione di un certo grado di fertilità da parte di questi pazienti. Quindi assolutamente un approccio interessante, ma dove veramente dovrebbe cambiare e dovrebbe entrare nella nostra patica clinica la concezione che noi abbiamo della testis per insergeria nelle neoplasie benigne. Infatti, se noi consideriamo l'aumento delle diagnosi di piccole masse testicolari, quindi di lesioni di 2 cm, 1 cm, vediamo che sta aumentando radicalmente in questi anni perché si sta diffondendo l'uso dell'ecografo, gli ecografi ce li abbiamo tutti, facciamo ecografie testicolari molto spesso anche senza che ci sia un'indicazione, lo facciamo per screening, lo facciamo per controllo, per valutare un varicocele molto più frequentemente di come lo facevamo qualche anno fa, bene, l'80% di queste lesioni più piccole di 25 mm sono benigne all'esame istologico. Quindi, se sottoponessimo tutti questi pazienti a orchiectomia radicale, ci esporremmo a un rischio enorme di overtreatment a documento del paziente, assolutamente, e soprattutto avendo quest'arma meravigliosa dell'esame istologico intraoperatorio, abbiamo una certezza, una grande sicurezza nella nostra pratica clinica perché si conferma all'esame istologico definitivo quasi nella totalità dei casi, quindi abbiamo sicuramente una sensibilità diagnostica nel discernere tra lesione benigna e maligna che è superiore al 90% e questo lo dico a fronte della letteratura che è stata prodotta negli ultimi dieci anni. È sempre più chiaro che l'esame istologico intraoperatorio per questo tipo di lesioni è efficace. Per quanto riguarda la tecnica chirurgica vorrei farvi vedere questo video che mi ha gentilmente concesso il professor Giorgio Franco che è con cui ho avuto il piacere di collaborare in questi anni perché anche lui cioè lui mi ha trasmesso diciamo questa passione per la testisperine surgery diciamo. Questo è un duplice approccio di testisperine surgery per due lesioni diciamo poco superiore al centimetro in due ragazzi che avevano 23 anni uno e 21 l'altro quindi due lesioni del polo inferiore che non sembra scarsa vascularizzazione non segni di infezione locale quindi 11 mm nel testicolo destro viene fatto un approccio subinguinale quindi viene esteriorizzato il testicolo senza la sezione del gubernaculum testis quindi un approccio veramente mini-invasivo diciamo viene incisa la vaginale esteriorizzato il testicolo a questo punto prima palpatoriamente e poi con l'uso di un ecografia intraoperatoria previo clampaggio del funicolo viene identificata la massa a questo punto l'albuginia viene incisa a livello della massa certe volte ci si può guidare anche con un piccolo ago che ci va a identificare ecograficamente la massa la massa viene scissa e viene mandata per l'esame istologico poi vengono prese delle biopsie multiple del letto di resezione qui si posiziona nel ghiaccio e l'esame istologico ci dice in tempo reale che è un ledigioma quindi tranquilli noi strutturiamo l'albuginia e andiamo a ricollocare la gonade a livello endoscrotale qui ovviamente c'è una ricostruzione a strati anche della vaginale ebbene procedura molto semplice il testicolo viene rinserito e viene fatta una sutura intradermica quindi sostanzialmente il paziente viene dimesso il giorno stesso in quest'altro caso abbiamo una lesione di 13 mm al testicolo sinistro paziente di 23 anni si decide di fare ovviamente lo stesso approccio quindi esteriorizzazione del funicolo del testicolo senza incisione al gubernaculum testis esteriorizzazione in questo caso la massa è lievemente più grande quindi viene palpata intraoperatoriamente e viene scissa questa massa questa massa come vedete da un punto di vista macroscopico non ha delle grosse differenze rispetto all'altra eppure l'esame istologico ci dice che è un seminoma quindi viene clampato funicolo doppia pinza orchiectomia e legatura a questo punto da questa mini incisione viene posizionata la protesi testicolare all'interno della sacca diciamo noi applichiamo una tecnica molto simile non usiamo una sezione subinguinale noi facciamo un'incisione scusate inguinale come per fare un'orchiectomia radicale ma sostanzialmente non cambia perché se pensiamo un'invasione del funicolo ci aspettiamo che c'è un tumore dovrebbe essere un T3 quindi tutto sommato il rischio che veramente di rischio oncologico è nullo e quindi una tecnica molto riproducibile semplice d'esecuzione e la cosa più difficile è semplicemente riuscire a identificare questa massa che però una volta che uno impara a fare ecografia intraoperatoria diventa molto semplice soprattutto se ci si guida con un fine needle bene adesso vorrevo riproporvi quello che di cui già ho parlato a Bari nel challenge delle sezioni presentandovi la nostra produzione scientifica perché noi in Siamers siamo molto molto attenti a questo tema della testis per insergeri e praticamente da quasi dieci anni continuiamo a fare ricerca in questo ambito se cerchiamo testis per insergeri e guardiamo il numero di articoli che sono pubblicati su PubMed ogni anno vediamo che il numero tendenzialmente tende a crescere nel tempo proprio perché sempre più attenzione viene posta nei confronti di questo argomento che ad oggi finalmente sta trovando anche uno spazio nelle linee guida il primo articolo pubblicato sulla testis per insergeri risale nel 2012 nella nostra sezione a Modena che presentavano sostanzialmente una casistica interna questo è un articolo molto interessante soprattutto perché è precursore nei tempi ed è stato pubblicato su Urology io ho nel 2013 copiato sostanzialmente questa esperienza e abbiamo avviato uno studio sulla nostra casistica che è stato pubblicato sul clinical genitori inari cancer ma soprattutto è stato uno stimolo per scrivere poi due review e approfondire la letteratura su questo tema penso che a sua volta il buon Andrea Fabiani insieme a sua moglie mi abbia copiato l'anno successivo e abbia lui pubblicato la casistica interna dell'ospedale in macerata che ha trovato spazio sull'archivio e da lì anche uno stimolo molto virtuoso perché ha portato uno studio multicentrico nel 2016 tra Ancona Civitanova e macerata che ha portato soprattutto a stilare una flowchart cioè un algoritmo diagnostico terapeutico che poi in questi centri è stato sistematicamente applicato dal giorno successivo quindi una cosa che ha avuto un impatto molto importante anche nella pratica clinica sicuramente lo studio più importante che è stato pubblicato nella nostra sezione è quello che è stato lanciato dal nostro centro nel 2017 che è stato Bologna leading group di uno studio multicentrico con Trieste Abano Torino e l'Umberto I di Roma abbiamo messo insieme una casistica che pensate nonostante sia di solo 147 pazienti è la più grande casistica al mondo di pazienti trattati con testis per inserci presenti in letteratura e 54 di queste neoplasie si sono rilevate le digiomi che a sua volta è la più grande casistica presente in letteratura di le digiomi trattati con testis per inserci ad oggi a un follow up medio di 5 anni nessuno di questi le digiomi ha dato secondarismo i pazienti stanno tutti bene la cosa più importante è che la maggior parte solo 14 di queste lesioni sono risultate maligne tutti i seminomi di stadio 1 nessuno sottoposto a terapia adiuvante tutti sottoposti a orchiectomia radicale e soprattutto c'è stato un cut off di un centimetro delle lesioni che è un forte predittore di neoplasia benigna quindi tutte le lesioni più piccole di un centimetro quasi tutte nel 92,6% dei casi si sono rivelate poi essere una lesione benigna e questo è un dato importante che ha portato la diciamo abbiamo proposto questi dati alle AU nel 2018 risultando best poster e poi anche all'SSM dove diciamo l'aspetto oncologico è un po' meno centrale però comunque ha avuto un buon riscontro soprattutto poi grazie al coordinamento con Roma e il grandissimo supporto diciamo sia culturale ma anche pratico che mi ha dato Giorgio Franco siamo riusciti a pubblicare questo articolo proprio nel aprile del 2020 quindi recentemente pubblicato sul Journal of Urology quindi una rivista di prima fascia e qui in basso a destra vedete il tweet del Journal of Urology che negli Stati Uniti sta avendo un certo tam-tam mediatico e l'articolo è stato già citato due volte nonostante sia appena uscito questo perché perché c'è bisogno di letteratura sulla testis per insergeri perché è un argomento ancora inesplorato e forse per troppo tempo negletto cosa vale la pena di studiare ancora cosa dovremmo ricercare nella testis per insergeri fino adesso tutta la letteratura si è incentrata sul verificare la sicurezza la safety oncologica di questo tipo di chirurgia ma quello che veramente manca è il dato funzionale quello di cui c'è bisogno è uno studio prospettico che ci permetta di valutare gli outcome funzionali sia dal punto di vista endocrino sia dal punto di vista seminale e quindi questo è molto complesso fare questo tipo di studio è difficile per la testis per insergeri perché perché ci sono dei limiti strutturali innanzitutto la numerosità dei pazienti perché testis per insergeri non si fa tutti i giorni guardando le casistiche di questi almeno quattro grossi centri di punto di riferimento regionale della Emilia Romagna e poi anche Moinette di Torino Umberto I di Rom cattinare a Trieste nessuno aveva i numeri per rappresentare una casistica importante c'è una forte dispersione dei dati e perché ovviamente se non c'è un disegno iniziale non si raccolgono e poi anche qualora si raccolgano per bene questi dati non si raccoglieranno mai nello stesso modo e quindi ci sarà una non uniformità dei dati quindi cosa propongo questa è una proposta che io faccio per la seconda volta l'avevo già detto a Bari e devo dire che ho trovato nella Siamersi una forte accoglienza a questo tipo di proposta e soprattutto in Andrea Fabiani che non ringrazierò mai abbastanza per il supporto l'amicizia e il confronto continuo che mi permette di avere con lui fare una survey io penso che questo sia meglio farlo proprio a livello nazionale sarebbe bene che partesse dalla SIA non dalla Siamersi fare una survey online nazionale su tutti i pazienti sottoposti a testis per insergere in tutti i centri che vogliono o che già eseguono questo tipo di chirurgia una durata di 3-4 anni ci permetterà di raccogliere una casistica sufficiente per andare a valutare ovviamente con una selezione uniforme dei pazienti gli effetti funzionali di questo tipo di chirurgia confermare ancora una volta perché ce n'è comunque bisogno la concordanza tra frozen section examination e final pathology quindi esame istologico estemporaneo in sala e esame istologico finale e un confronto tra la popolazione sottoposta a testis per insergeri e una popolazione di controllo sottoposta a orchiectomia radicale per seminoma di stadi 1 che quindi non andrà a fare una terapia adiuvante confronto fondamentale è un dato nuovo che non è stato mai pubblicato non è stato mai proposto in letteratura fino ad oggi quali sono le finalità di questo studio intanto creare un network tra i centri che hanno esperienze testisperi in surgery e coinvolgere nuovi centri diciamo promulgando questo tipo di chirurgia che comunque nonostante sia molto semplice non ha trovato applicazione io so di per certo che in ospedali intorno a Bologna o anche in altri ospedali bolognesi non viene eseguita in routine raccogliere una casistica di non così tanto numerosa 70-100 pazienti potrebbe essere sufficiente è un gruppo di controllo anche più piccolo e pubblicare il primo lavoro che analizzi prospetticamente gli esiti funzionali di testisperi in surgery con un confronto con seminoma di stadio 1 sottoposti a orchiectomia radicale io penso che il messaggio che deve passare è che dobbiamo essere uniti chiunque voglia chiunque è un invito veramente a tutti quelli che vogliono avvicinarsi o che già fanno questo tipo di chirurgia unire le nostre forze unire i nostri dati e proporre qualcosa di innovativo non per meramente per pubblicare ma perché io penso che proprio ci sia bisogno in letteratura ci sia una carenza sostanziale di questo tipo di informazione di questo tipo di dato e noi possiamo essere i primi veramente a mettere in campo un lavoro innovativo la rete c'è la voglia anche i professionisti ci sono quindi dobbiamo solo unirci quindi a questo punto vediamo se ci sono delle domande aspettate che metto la mia faccia in primo piano saluto tutti quelli che si sono collegati molti dei quali sono già amici vediamo un po' quando fai l'esame istologico intraoperatorio fai sempre il campaggio del funicolo e al massimo per quanto tempo bene io c'è chi non lo fa noi lo facciamo è il campaggio sicuramente durante la fase dell'enucleazione che quindi è di breve durata talvolta lo facciamo anche fin quando non arriva l'esame istologico che ci mette una quarantina di minuti anche questo è un dato che forse varrebbe la pena di esplorare il tempo di ischemia calda quanto danneggia il tessuto testicolare c'è chi fa lo stesso procedimento anche in ischemia fredda quindi applicando semplicemente del ghiaccio sul testicolo si può pensare a risparmiare il testicolo anche in caso di istologia positiva assolutamente per le condizioni che ci indicano le linee guida quindi se il paziente è monorchide o se ha un tumore bilaterale io penso che di fronte a una neoplasia maligna bisogna sempre porsi davanti il forte dubbio etico sto facendo la cosa giusta per il paziente cioè questa preservazione di fertilità considerando che se io ho un seminoma di stadio 1 non gli farò la terapia adiuvante e avrà l'altro testicolo quindi sarà sostanzialmente un paziente fertile perché lasciarglielo io su questo punto di vista devo dire che sono un po titubante quindi io non lo farei opzione causa opinione causa influenza perturbatori endocrini causa influenza perturbatori endocrini questa domanda non non è molto chiara quindi possiamo sicuramente magari riporla in modo un po più specifico in modo che io possa rispondere piace l'idea della survey piace Giovanni Viguori piace anche al presidente che parta dalla sia mersa allargata la società creare la scheda di commissione scientifica senz'altro avete dati su un eventuale andamento dell'incidenza dell'auto anticorpi no questo non ce l'abbiamo però potrebbe essere uno spunto di per il futuro certo è uno studio più molto più tecnico e più complesso secondo me però si può fare assolutamente i margini di escissione margini di tessuto rimanente in estemporanea sono sufficiente allora noi facciamo sempre così escissione della massa che normalmente appare come quasi sempre capsulata comunque si lascia un margine veramente minimo intorno alla lesione e poi sul letto di resezione si fanno dei piccoli prelievi per quanto riguarda il fatto che siamo sufficienti o meno sono sicuramente sufficienti alla frozen section perché se sono maligni orchiectomia se sono benigni non c'è un margine che debba essere rispettato nello specifico ottimo Giorgio ok per il volume massimo esiste un volume limite che autorizzi un wait and see bene questa è una domanda molto importante anche perché quando abbiamo pubblicato sul journal of urology è stato proprio l'editore a farcela lui dice se io ho una lesione di 3 mm non ci penso proprio a fare un'escissione perché è una lesione molto piccola che non riesco a trovare ho difficoltà a cercare intraoperatoriamente è sicuramente molto più comodo fare un follow up ecografico e questo io sono assolutamente d'accordo non esiste un un cut off di riferimento diciamo che se sotto il centimetro sono la maggior parte benigne e diciamo sotto i 5 mm forse si può fare un follow up ecografico vorrei sapere la tua opinione sulla possibile causa del tumore del testicolo da parte di perturbatori endocrini io sinceramente non ho un'opinione personale su questo argomento su questo tema sui perturbatori endocrini che dici perché non è sinceramente il mio campo di ricerca so quello che dice la letteratura cioè che c'è una correlazione che è statisticamente significativa quindi mi dispiace ma non posso darti una parere personale su questa cosa adesso adesso angelozzi mitico ti saluto nella testis per in surgery nel monorchide se ha lesione 5 mm ipoecolica l'ecointroperatoria conferma l'assenza di e dopo asportazione seminoma ma ci sono tumori in situ e altre biopsie intraoperatorie che fare allora vedo di cerco di rispondere alla domanda non so se ho capito esattamente quello che mi stai chiedendo però se il paziente è monorchide ed ha una piccola lesione testicolare e io la scindo e questo è un seminoma se il paziente ha una piccola massa testicolare se c'è seminoma è molto probabile che ci sia tumore in situ e questo paziente avrà un rischio del 50 70% a 3 anni di sviluppare un seminoma però le linee guida dicono che se il paziente ha desiderio di paternità e ovviamente si informa si fa un consenso informato e ci si mette d'accordo prima dell'intervento si può fare testi sparing surgery è ovvio che ci deve essere un'alleanza tra medico e paziente e l'informazione il consenso informato gioca un ruolo fondamentale bisogna parlare dei rischi cioè non è una procedura esente da rischi non è una procedura oncologicamente safe però ritardare la procedura radicale non peggiora la prognosi di questo paziente ci sono altre domande se non ne approfitto e faccio partire la nostra mitica sigla keep in touch and never give up 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 per gli amici della sigla keep in touch and never give up keep in touch keep in touch and never give up and never give up keep in touch keep in touch and never give up qual è il volume massimo oltre il quale fai direttamente all'orchiettomia ricordo un antico adagio urologico di quando ero giovane la biopsia nelle lesioni superiori a 2 cm è l'orchiettomia che ne pensi di questo antico adagio urologico penso che tutto sommato è giusto perché se noi andiamo a rivedere quali sono le indicazioni principali della testis per insergeri è che la lesione non deve essere mai superiore al 30% del volume del testicolo è ovvio che se c'ho una massa di 3 cm all'interno del testicolo resta ben poco dopo questa nucleazione quindi assolutamente ci devono essere le condizioni di base anche perché poi andiamo a vedere questa nucleazione della massa sopra i 2 cm quante saranno benigne secondo me molto poche e comunque l'impatto funzionale che ha una nucleazione di una massa così grande non giustifica la procedura vi ringrazio tutti per i complimenti e spero che vi sia piaciuta questa mia piccola relazione diciamo l'obiettivo di questo tipo di di divulgazione è promulgativa cioè io so che all'interno del SIA non c'è bisogno di parlare i testis per insergere in termini culturali siamo tutti portati a fare questo tipo di ragionamento che non valuti solo l'oncologia ma anche poi quello che l'impatto che la chirurgia avrà nella vita del paziente ancora una volta quello che vorrei fare è che in tutti questi anni negli ultimi 5 anni grazie anche all'impegno e l'aiuto di Giorgio Franco e degli altri che mi hanno aiutato è quello di creare una rete una rete di testis per insergeri di chirurghi di andrologi che porti avanti uno studio e inizi a pubblicare dei dati innovativi perché stiamo parlando di una branca che ha bisogno davvero di letteratura di nuove idee ha bisogno di essere esplorata quindi se grazie Luigi dei complimenti vi saluto grazie Giuseppe saluto tutti è davvero stato un piacere stare con voi questo pomeriggio e spero al più presto di incontrarvi di persona per parlare non solo di testis per insergeri ma magari anche di bere una birra finalmente senza distanze di sicurezza senza mascherine senza guanti e di ritornare alla vita di prima un saluto a tutti buon proseguimento e buona fase 2 grazie a tutti grazie a tutti